I ragazzi perché mi sono davvero piaciuti, tra l'altro incontravo una squadra come gioco e come messa in campo tra le migliori che abbiamo trovato e quindi questo dà ancora più valore a questa vittoria. Bisogna continuare così, con questo spirito perché è importante. Tutti anche i giornali parlano di questo pagano, brega, granito. Ma io vorrei fare una domanda su un giocatore che a mio avviso fai meglio in campo. Dov'eri? E anche domenica ha fatto una grande partita. In questo nuovo ruolo che può svariare e buttarsi dentro mi sembra si sta trovando a suo agio. Io sono un po' restivo a dare giudizi sui singoli. Io credo che quando la squadra gira come oggi tutti quanti abbiano dato un contributo importante. Poi è chiaro che ognuno ci mette la prestazione singola. Gianluca, ma non solo oggi, ha fornito un'altra buona prestazione. È chiaro che è un ruolo che lo sgrava un pochettino di più da compiti difensivi e quindi lui ha questa capacità di buttarsi nello spazio. C'ha corsa, qualità e quindi per noi è sicuramente un giocatore importante. Ecco, Pagano è uscito nell'intervallo. Cosa ci puoi dire? Ha avuto un problemino al ginocchio. Valutiamo poi martedì l'entità del problema. Ho già avuto un mesetto fa. Chiaro che Pagano viene da otto mesi di inattività e quindi sono cose che possono succedere. Però bisogna avere la tranquillità di aspettarlo, sperando che non sia un problema che ce lo porterà via per un po' di tempo. Quindi il valore dei giocatori non si discute. Noi devono solo prendere un po' di condizione, un po' di confidenza col campo. E poi sicuramente ci darà quello che noi ci aspettiamo. Ecco, circa 500 presenze quest'oggi al Comunale. Una giornata un po' record degli ultimi anni. Avete un po' riacceso in città un po' l'entusiasmo di rivenire allo stadio. Oggi ho visto persone che non venivano da anni e anni e anni. Allora, intanto sono contento che siano venuti. Abbiamo visto, credo, un buon spettacolo calcistico. E poi è chiaro, questo è il merito della società, del presidente, dei Donati, di Ferretti, di chi ha creato questa cosa. E noi speriamo di coinvolgerli sempre di più. Qui c'è tutto per poter far calcio e anche bene. Dalla società, al direttore sportivo, Andrea Luperini. Quindi sta a noi, sta a noi invogliare ancora di più questa gente per far sì che ci si possa togliere insieme grandi soddisfazioni. La strada che è stata imboccata è quella giusta. Ripeto, bisogna continuare così. Io credo che poi, alla fine, i valori verranno fuori. E siccome questa è una squadra con grandi valori, c'è da essere fiduciosi. Ecco, ora inizia un mese di fuoco, di partite importanti. Quattro partite di campionato, più una di Coppa. Domenica, Ponzacco-Vallarciano. E poi c'è l'arto big match, Castelnuovo-Pietra Santa. Adesso, io ai ragazzi l'ho detto, in queste settimane, noi bisogna arrivare bene alla sosta di Natale. Ci sono le ultime partite di campionato, poi c'è questo impegno di Coppa a cui noi teniamo molto. Quindi sarà un mese impegnativo e ci dovrà trovare pronti. Credo che, ripeto, vedendo le ultime prestazioni, credo che poi alla fine ci abbia fatto bene quello schiaffo di Luca con la vicenda della Fortis. Dove ribadisco che siamo stati fortunati. Però ci ha fatto capire quello che ci vuole per poter ambire a vincere questo campionato. E vedo che i ragazzi, sotto questo punto di vista, stanno rispondendo alla grande, fornendo prestazioni in crescendo. Perché dopo Luca c'era stata la partita con San Marcavenza, dove non l'avevamo fatto benissimo. Poi è venuto Quarrata, dove abbiamo fatto bene. L'altro giorno in Coppa lo stesso e oggi forse è stata la migliore di questo trittico di partite. Quindi questo mi fa anche ben sperare, proprio dal punto di vista dello spirito e della voglia che questi ragazzi hanno di portare il nome di Ponsacco in altre categorie. Bene, grazie.